Sono tanti gli appuntamenti a Canicattì a partire dal prossimo 29 ottobre il ricordo del giudice Rosario Livatino, elevato a Beato da Papa Francesco il 9 maggio dello scorso anno. Gli estimatori del Beato Livatino parteciperanno in maniera privata alle funzioni religiose già previste in città. In coincidenza della solennità liturgica del 29 ottobre, invece, l'Associazione Amici del giudice Rosario Angelo Livatino garantirà l'apertura della Cappella Livatino Corbo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. L'apertura della stessa Cappella, dove riposano le spoglie del Beato Livatino, sarà ripetuta anche nelle giornate di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti rispettando gli stessi orari. Lunedì 31 ottobre, vigila di tutti i Santi, l'Associazione parteciperà alle 21 nella Chiesa San Domenico alla veglia di preghiera. Mentre martedì 1 novembre alle 18.30 ci sarà l'omaggio Canoro Facciamoci Santi, realizzato dai giovani della parrocchia San Francesco di Canicattì. L'Associazione, intanto, parteciperà venerdì 28 ottobre alle 19 al corteo contro la microcriminalità in città, promosso dal Movimento Giovanile di Innoviamo Canicattì, in collaborazione con l'associazionismo locale. L'attività dell'associazione, infine, proseguirà anche con la presentazione in giro per la Sicilia dell'ultimo libro di Roberto Mistretta, Rosario Livatino, l'uomo, il giudice e il credente, e con le altre attività istituzionali, sempre rivolta a diffondere la conoscenza della figura del Beato Livatino e dei valori di giustizia e carità. Grazie a tutti.